Aveva 52 anni Gianni Zanetti, agricoltore di San Martino di Lupari. Da sempre gestiva l'azienda di famiglia e anche domenica mattina si era recato in via del confine per occuparsi dei capi di bestiame che accudevano una stalla per conto terzi. Cosa sia accaduto sarà l'indagine aperta dalla procura di Padova a stabilirlo, a lanciare l'allarme alla famiglia, alla madre e ai fratelli che non vedendolo rincasare per il pranzo della domenica si sono precipitati verso la stalla. Qui, cercando di chiamarlo, hanno capito che il 52enne era finito nel carro miscelatore attraverso il quale viene distribuito il cibo alle bestie. Vana la corsa dell'ambulanza dall'ospedale di Cittadella così come l'arrivo dell'elicottero del SUEM. I vigili del fuoco hanno dovuto smontare il macchinario per riuscire a ricomporre il corpo di Gianni Zanetti. A seguire le indagini, i carabinieri, la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria, il macchinario è stato sottoposto a sequestro. Si tratta del quinto infortunio in una settimana nell'Alta Padovana.